Per Assi Sportivo siamo col coach Giuseppe Morelli della Dianne Foggia. Allora, perde il Foggia contro il Manfredonia in casa. Di solito ha mostrato grande carattere, però oggi il Foggia ha anche giocato. Ecco, mi chiedo, cosa preferisce? Il gioco, questo gioco che comunque ha fatto in questa partita, o il carattere che ha dimostrato durante questo campionato? Beh, oggi non abbiamo fatto una gran partita. Noi dimostriamo sempre gran carattere. Per oggi sono venuti meno alcuni giocatori che in genere la fanno da padrone, fanno la voce grossa. Purtroppo ci sta, insomma, il Manfredonia è una delle concorrenti al salto di qualità come noi. Noi, quando dovevamo uccidere la partita, nel secondo quarto, che eravamo più undici sopra, siamo rientrati un po' scarichi, un po' deconcentrati e il Manfredonia è rientrato. Ecco, crede che questa sconfitta comprometterà in qualche modo il vostro campionato? No, non compromette niente. Anzi, io credo che la nostra squadra è capace di vincere dappertutto. Quindi siamo stati sconfitti in casa, però possiamo andare a vincere fuori dappertutto. Ecco, un commento sul fallo appunto di Russo, il giocatore del Manfredonia? Eh, mi dispiace perché l'ho avuto anche io come giocatore. Insomma, è un peccato anche perché lui è un punto importante nel Manfredonia. Ecco, prossima partita, prossimo avversario, Olimpica Cerignola, il primo che occupa appunto il primo posto in classifica. Sarà una bella sfida. È un'altra battaglia. Purtroppo le partite sono così. Sapevamo che erano terminate un po' le partite un po' più semplici e adesso cominciavano quelle un po' più difficili. Ci resta l'ultima e dobbiamo vincerla assolutamente. Ringraziamo Morelli, alla prossima. Grazie.